Benvenuti in questo nuovo video Mi avete chiesto di farvi il video di come io vado a pulire il frigo Ecco, quel video è arrivato, ora ve lo faccio Me l'avete chiesto dopo il video di come gestisco le pulissie Ed ecco il giorno è arrivato il cui dobbiamo pulire il frigo E' più di un mese che non lo faccio Perché comunque, come sapete, ho avuto problemi con il mio socio Che è stato in ospedale, per cui la testa sinceramente non c'era proprio di pensare a pulire il frigo Ora vi faccio vedere con me Iniziamo a togliere qualcosina da dentro E li porto nella vasca per lavalli Perché almeno la vasca è più creante e vado meglio a lavalli Vabbè, che si toglie anche la televisione Perché la pulire anche sopra, logicamente Dopo molto a dire questo Vabbè, ci vuole un po' di tempo che deve finire di sciogliersi il chiaccio Andiamo sotto E togliamoli Vabbè, tanto spocco, spocco Diciamo, è solo quel patto là Un po' più spocco Ma poi, vabbè, qui Che ci ho appoggiato le cipolle Ma poi Posso dire che per questo È tutto Bene Togliamo anche questi Vabbè, qui ci sa qual è la bottiglia Atacqua mia Quella là che usavo nel periodo estivo Ecco qui Vabbè Ora Vatta a togliere Tutti i pezzi E li vado a mettere Nella vasca E poi Le andiamo a lavare Insieme Vabbè Vabbè Ho pulito già la parte del coceatore, ora mi vado a pulire la parte del frigo. Ma io volevo dire una cosa, se voi prima non avete visto utilizzare lo straccio viola e lo straccio giallo e avete pensato che non l'avessi ciacquato, avete pensato male perché ne ho due. Per cui diciamo il grosso lo vado a togliere con questo qua viola e le altre due passate ce li vado a fare con questi qua ciali di aerospin. Che vi devo dire, la verità mi trovo, scusate per il telefonino che suona, mi trovo veramente bene con questi qua di aerospin. Per cui se pensate che non l'avessi ciacqualle pensate male perché ne sono utilizzato due ciale. Ora passiamo al lato di sotto, diciamo proprio frigo frigo. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.